Ho ripensato nel tempo un po' tutte le materie prime e ho deciso che era molto importante passare un messaggio che fosse appunto oltre diciamo la bellezza del quadro, dell'opera d'arte ma che fosse un messaggio più universale e credo che oggi più che mai ci sia bisogno di pensare l'ambiente al nostro pianeta e quindi ho sostituito le materie prime classiche diciamo con delle materie prime alternative quindi ad esempio ho sostituito la tela per dipingere classica con un tessuto che si chiama vita e viene dal recupero delle reti fantasma nel fondo degli oceani quindi questa azienda va a recuperare queste reti e ne crea un tessuto fra l'altro molto bello. Allo stesso modo ho sostituito il legno classico per i pelai con un legno che viene dagli scarti delle fallegnamerie che poi vengono ricollati. I was hoping for an indication I was seeking higher elevation a a